Il colloquio telefonico tra Vladimir Putin e il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, non è servito a garantire una tregua umanitaria nell'est dell'Ucraina. A Mariupol in particolare, la pace sembra lontanissima. I russi controllano ormai tutta la città portuale. L'ultima resistenza ucraina si trova nel fortino dell'acciaieria Zovstal, dove sono barricati 2.000 combattenti ucraini e centinaia di civili. Mosca afferma che concederà una tregua solo in caso di resa dell'acciaieria. I negoziati di pace sono in fase di stallo. Abbiamo proposto una soluzione ai negoziatori ucraini, tenendo conto anche delle loro richieste, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Il presidente ucraino ha invece denunciato l'assenza di una tregua per la Pasqua Ortodossa, che cadrà questa domenica. Secondo Zelensky, dopo l'Ucraina la Russia progetta di invadere altri paesi, primo fra tutti la Moldova, per collegare alla Trasnistria filorussa la fascia costiera ucraina sotto il controllo di Mosca. Proprio nei territori occupati dalla Russia si registrano nuovi crimini. A Mariupol le ultime immagini satellitari mostrano una fossa comune lunga 45 metri, in cui potrebbero essere sepolti mille civili. L'attacco russo continua anche a nord. A Kharkiv i raid non si fermano. Ma l'offensiva delle truppe di Mosca si concentra soprattutto sull'est, dove la Russia cerca di ottenere il controllo completo sulla regione del Donbass, obiettivo fissato ormai esplicitamente anche dallo stesso Vladimir Putin. Lo scopo di questa operazione è aiutare il nostro popolo che vive in Donbass, ha detto il leader del Cremlino.